Salve, di ritorno da Roma siamo qui sul treno per Ancona con Giuliana Giacchi alla quale chiediamo di raccontarci un po' come è stata questa sua prima esperienza romana nel senso che Giuliana, un po' ignara di quelle che erano le associazioni di consumatori per la prima volta si è immersa in questo mondo del consumerismo, dei diritti dei consumatori eccetera, quindi Giuliana che cosa hai sentito, dici le tue impressioni della giornata odierna Allora buonasera a tutti, molto interessante per quanto riguarda proprio sia l'ambiente che le persone e a maggior ragione i temi, i temi del consumatore interconnesso uno dei punti importanti è la farmacia 2.0, questa farmacia che si sta evolvendo in tutta Europa e ovviamente perciò anche in Italia e nelle regioni italiane Poi un altro tema molto importante è l'agenda digitale, ovviamente tutte le aziende statali parastatali e private saranno su internet connesse praticamente con tutto il mondo web Altro settore molto interessante è stato il copyright del Made in Italy L'originale, il mercato del falso Esatto, interessantissimo perché Made in Italy è copiato in tutto il mondo ma anche in modo diciamo irregolare, non lecito L'altro tema è lo stesso sempre molto interessante è quello delle conciliazioni Esatto, fra il cittadino e molti enti statali, parastatali Fornitrici di servizi, dove magari c'è stata la contortalistica non ben precisa o delle problematiche sui contattori, insomma e quant'altro, temi veramente molto importanti che il consumatore, noi cittadini dobbiamo essere difesi e più attenti e per futuro grazie a queste associazioni per noi consumatori che ci difendete e perciò questo forum è stato veramente molto interessante E noi ringraziamo Giuliana per questo suo supporto, questo appoggio morale che ci ha dato tutta questa mattina e vi rimandiamo alla visione dei nostri filmati che potete vedere su Youtube nel canale AQQBui AQQBui che significa AQ, associazione consumatori utenti CUB, confederazione notaria di base UI, unioni inquilini Arrivederci al prossimo servizio Buon pomeriggio